Di Maio, scusi, Salvini ha detto che è pronto a parlare con il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle è pronto a parlare con la Lega anche per Roma? Se il Movimento 5 Stelle voleva parlare con le forze politiche che hanno già governato questo paese, a suo tempo, all'elezione del 2013, faceva una coalizione. Noi scegliamo di andare avanti da soli perché non pensiamo che sia un investimento giusto di tempo e di energie lavorare o parlare con le forze politiche che hanno già governato questo paese e questo deve essere il leitmotiv delle prossime elezioni comunali, ora o mai più. O ce ne liberiamo questa volta o non ce ne liberiamo più.